Per me è davvero molto bello poter condividere con voi oggi brevissime considerazioni in questo giro per l'Italia che stiamo facendo, anche per non rimanere troppo a lungo nei palazzi. La ringrazio molto, posso darvi un suggerimento tecnico, sarebbe stato più credibile se aveste fatto parlare e lo avessi detto dopo, dirlo prima è un buffone sulla fiducia che vi riprendiamo. Vi ringraziamo per questa gentile e cortese introduzione, ma una delle cose più belle che io sto imparando in questo anno e mezzo di governo è la straordinaria ricchezza del nostro Paese.